L'Ufficio Scolastico Regionale e Ambie Emilia Romagna, rappresentanza di tutti i consorzi di bonifica, stipulano un accordo sperimentale, pionieristico, ma già ricco di elementi importanti e progettuali svolti negli anni scorsi. In che cosa consiste? Il protocollo consentirà alle singole scuole interessate, con i singoli consorzi sul territorio regionale, di stipulare accordi specifici per organizzare stage sia nel periodo invernale che nel periodo estivo presso le strutture dei consorzi di bonifica per gli studenti del triennio di questi istituti. Un'esperienza che è un ponte fra quello che è il mondo dello studio e il mondo del lavoro, quindi non un'alternanza scuola-lavoro nel rispetto della legge solamente, ma concretamente un'opportunità anche per i giovani di qualificarsi professionalmente e magari anche per un posto di lavoro futuro. Assolutamente sì, l'alternanza scuola-lavoro non va vissuta come un mero adempimento normativo per riempire un certo numero di ore. È l'occasione per ripensare il modo di fare scuola attingendo alle competenze, alle professionalità e alle metodologie che soltanto un'esperienza concreta in assetto lavorativo può donare ai ragazzi, migliorando in questo modo il loro percorso scolastico e anche, perché no, la loro possibilità di occupazione futura. Nel caso andasse bene, è un modello che potrebbe essere esportabile? Il tema dell'esportabilità è un tema centrale per l'amministrazione scolastica, ovviamente, perché tante sono le belle esperienze in atto e il tema diventa appunto quello di replicarle. Certamente sono importanti i modelli, ma dobbiamo sempre ricordarci che poi i modelli funzionano se ci sono persone disponibili a lavorare insieme per realizzarli. Presidente Pedersoli, un accordo di ambi con l'ufficio scolastico regionale che è un modello unico per adesso in Italia e che fa entrare i consorzi di bonifica come ente accreditato, quindi importante per l'insegnamento, non solo agli studenti, ma anche ai docenti. È un'opportunità importante per voi? Sì, un'opportunità molto importante, credo e spero anche per la scuola, perché penso che ci sia grande reciprocità in questa iniziativa, poter sviluppare le tematiche relative alla gestione dell'acqua e più in generale del territorio, della tutela del territorio, viste le problematiche, in talunni casi anche molto gravi, che ci sono nei nostri territori, uno su tutta la subsidenza, ma anche il problema delle frane. Direi che non solo sui nostri territori, ma anche a livello nazionale, credo che sia, possa essere un buon viatico per avviare una collaborazione oggi in Emilia-Romagna, domani su tutto il territorio italiano, proprio per far sì che il mondo della scuola entri sempre di più in quella che è la vita di tutti i giorni, di quelle che sono le attività, di quella che è la politica del fare, di quali i nostri enti, lo dico senza voler esagerare, però credo siano maestri, perché tutti i giorni noi operiamo a difesa del territorio, nella tutela, nel corretto utilizzo delle H, che quindi sostanzialmente è nell'interesse della collettività.